Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Nova, entra, presto! Mia madre mi ha appena chiamata da Solaria. È successo qualcosa di terribile. E che cosa sarebbe? Già, non tenerci in sospeso, parla! È qualcosa che riguarda mio padre, non è vero? No, non lui, ma te. La seduta è tolta. Siete congedati e stavolta, prima di andarvene, non dimenticate di inchinarvi solennemente a Chimera. Bravi, sì, così si saluta la nuova principessa di Solaria. No, mammina, sono così contenta! Hai fatto una scelta di cui non ti pentirai. Chimera sarà una figlia più affezionata di quell'ingrata di stella. Se posso permettermi, maestà, quello che è accaduto è gravemente irregolare. Vostra figlia è principessa per diritto di nascita. Negarle quel titolo va contro la legge di Solaria. Smettila! Nessuno interessano le tue opinioni, Ciambellano. Sua maestà, re Radius, ne è sempre tenuto conto, non è vero? Un tempo, forse, ma oggi le cose sono cambiate. E ora vattene, l'udienza è terminata! Maestà, vi prego, ascoltatemi, maestà! Vattene, ho detto! Puoi parlare, amico mio. Ti ascolto. Cosa c'è? È davvero questa la vostra volontà? Lasciare che la Contessa Cassandra decida per voi? Beh, perché no?